buongiorno ora ti spiego una cosa lo vedi questo tatuaggio ti spiego perché mi sono tatuato il simbolo dell'albania poi va beh avevo già la cappa di re di cuore in mezzo ma ti voglio spiegare perché io da italiano ho fatto un tatuaggio del genere la spiegazione tra le più semplici al mondo mi sento a casa ho tatuato il simbolo dell'albania la forza di questo popolo meraviglioso perché mi sento a casa non è legato a dei guadagni economici perché quando mi sono trasferito in liguria ad albenga guadagnavo tantissimi soldi eppure sapevo che ero di passaggio non mi sentivo a casa e io in liguria in albenga ho fatto cose incredibili sono ancora socio della associazione calciatori bambini di albenga quindi ho fatto veramente tantissime cose ho guadagnato tantissimi soldi qua non sono neanche alla metà neanche un quarto di quello che guadagnavo di là ma lì ero di passaggio qui io mi sento a casa e ho voluto onorare me stesso e il popolo albanese con questo tatuaggio perché sarà indelebile nella mia vita qua mi fanno sentire a casa e quindi per me questa è casa mia continua a seguirmi